e adesso linea cesare gallarini che ci deve parlare di un saluto dal comandante galla il 17 maggio presso il teatro manzoni di milano ore 20 45 si svolgerà il mitico premio nebbia dedicato a franco nebbia e alla nebbia di milano ci saranno 10 come cingara che anche voi pubblico potrete votare ci sarà una giuria tecnica composta da comici famosi famosissimi importantissimi bellissimi e bravissimi ci sarà alessandra faiella che presenterà assieme a gianco e al sottoscritto ma soprattutto è un premio che si contraddistingue perché è un premio dove tutto il ricavato andrà in beneficenza e quindi è importantissima la vostra presenza vi ricordo 17 maggio teatro manzoni il otto di milano premio nebbia quindicesima edizione e vi aspetto tutti quanti orario d'inizio 20 e 45 venite eleganti perché sarà una serata elegante un saluto dal comandante galla di milano